Schio è tutto pronto per la manifestazione promossa anche dal sindaco Orsi che si terrà domani sera davanti all'hotel Eden a partire dalle 19 per denunciare e informare la popolazione scledense relativamente alla politica di gestione governativa dei flussi migratori e dell'accoglienza delle persone richiedenti asilo ospitate a Schio come sull'intero territorio nazionale. Il sito è stato scelto ad hoc in quanto sarebbe uno dei luoghi scelti come centro d'accoglienza. La manifestazione si ispira con lo spirito di coesione tra cittadini stranieri italiani in grado di dar luogo a una comunità che vuole dire sì ai diritti e all'accoglienza, a regole chiare e responsabilità certe, contrarie a ogni forma di razzismo e contro chi questo razzismo lo crea o lo alimenta in nome del denaro e del potere.